Hola a todos Allora questa mini live mangerò violini chiaramente Hola Ciro Ciao Betty Come stai? Come sta tua madre? Spero meglio Hola Amber Ciao Betty B Hola Lindsay Allora prendiamo questi raviolini che sono Si sono un po' rotti perché li ho fatti un po' croccantini Sul Come si dice? Sulla padella Ciao Panino Aspettiamo che entra qualcuno Ciao Ciotola Li ho ordinati? No, li ho presi congelati Alla Aldi Ciao caro mia mamma Sto iniziando una cura, speriamo si riprenda Grazie per il pensiero Andrà tutto bene Andrà tutto bene Allora Li ho presi alla Aldi Però andavano fatti al vapore Siccome non la vaporiera Li ho messi sulla padellina E li ho fatti con un po' di acqua Però dopo volevo farli croccantini E purtroppo si sono un po' attaccate alla padella Ho fatto questa salsa di cola Che riaffresca un pochettino il sapore Chiaramente Allora purtroppo è stato Decortato di questa parte inferiore Allora facciamo così Sono buoni però Devo dire sono buone Sono troppo pochi in realtà Hola Giulia Una cosa provvisoria Come tavolino Per arzare il piattino Ecco qui E' molto molto buono Devo dire Mi pento che Ne sono così pochi Ho un pizzico di piccantino Oh mio Dio Buono però mi piace piccantino Allora Facciamo così Vi faccio vedere all'interno Ciracola Ciracola Oh mille Sono lì Sono buoni Siete Tope aesthetic Così Le gottitu C'erano congelati Non avevo la vaporiera Quindi ho dovuto farli Nella padella Ecco qui Per farvi vedere Senza inganne Senza L'interno Per farvi vedere Anche la parte Interna Senza Il Cosino Qui Guardate qui Ecco qui No Sono buoni Devo dire Sono buoni Mi piacciono molto C'è un pizzico di piccante One shot One two three 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 Ah si potrebbe fare questa cosa qui One two three One two Perché comunque Chi sarà divorato per primo One two three 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 Ok, mi dispiace molto, ecco qui tesoro, mi dispiace molto, no mi dispiace perché sono veramente buoni, sono pochi, devo essere sincero, hanno insetti dentro, no, e carne, che non so come venga e mette. Hola a todos, che caldo fa ieri mamma mia, ieri si stava un po' meglio come tempo, allora, è molto molto valido il sapore, Grazie Minnie, mangi solo quello e poi c'è quest'ultimo, l'ultimo raviolino. Hola a todos, benvenito a chi, rilassante, grazie Minnie, ecco, questo è rimasto metà intatto e metà no, Emo, non so che, in che senso, la salsa di cola è molto molto valida, il tuo comportamento non mi piace affatto. Ecco qui, mi piace un po', mi piace parecchio, devo dire la verità, devo essere sincero, mi è piaciuto molto. E colla, sì. E no, è solo cola, cola a zero. Eh, ma perché non è una confezione piccolina, poi uno l'ha mangiata e uno è decaduto, quindi il destino è stato anche abbastanza infausto, con i miei raviolini. Il piatto è con lo scompartimento, no, siccome io volevo mettere lo sciottolino, ho detto adesso metto questo che è abbastanza estetico, che è quello natalizio. E' questo con la Coca-Cola. Uso la forchetta, non sei, puntini puntini, ma se uso la forchetta poi non imparo mai, invece in questo modo ho preso un po' di manualità e ho visto come sono stato valido. Allora, adesso bevo un po' di Coca-Cola. Spero che tu possa rilassarti. Che bello salto, grazie, ormai già devo toglierlo magari perché è un po' poco uniforme. Ora com'è sasso, nulla di che. Sei sempre 60, grazie. Sei forte, grazie a me. Ruti, non mi sembra di aver ruttato, sinceramente. Manno il mittente e accuse, d'accordo. Mi rilassano le tue live, grazie. Sì, sì, hai ruttato? No, assolutamente no. Se l'avessi fatto l'avrei detto con il volto fiero di averlo fatto. Questa volta non credo, non credo, magari non me ne sono accorto. Basta ruttare, no, assolutamente no, non l'ho fatto. Se l'avessi fatto l'avrei detto, assolutamente. Hola Martina, non avrei esitato neanche un secondo. E' un mocioccoloccia. E ti si ce vuole tutto questo. Con questo tempo ho sempre sonno, chissà come mai. Sta bene con lo smalto, Maria, grazie. Ah no, ma questo non è un roux. E' un singhiozzo. Ah, forse dite questo. Vabbè, questo lo faccio sempre. Un'ottobre di Coca-Cola, grazie. Milly, più velocemente, no? Come sta oggi? Non dite che. Ma è un singhiozzo. Milly, per favore, grazie Circus. Più velocemente, Milly, per favore. Fa troppo caldo. Ah no, non ho aperto, manca il ventilatore. Mi sono dimenticato, vabbè, ma mi sta spesso. Ti manca il tuo ex? Il mio ex? Quale ex? Smettila di ruttare. In una live ricordo che gli haters facevano il ruttino. Quando mi scrivano queste scredite, Pina, come sta? Sempre è stato confusione, la rianimazione. Hai il microonde, no? Non ho più spazio in casa mia. Oramai ci mancano il microonde. Eticamente, no, quella volta mi prese la mano, tutta la live, mi mise a ruttare. Però poi non ero inquadrato, quindi sembra come sta nebola, ma normale. Devi sciarparlo subito. Ma l'avrei comprato subito, ma non ho più spazio veramente. Ci manca solo il microonde sul piano lì della cucina. L'unicornino è congelato. È stato confusionale. Fa caldo, sì. Grazie, Jacob. Puoi dire Ivan sei forte. Ivan sei forte. Soffio sulla fotocamera. Comunque, questi ravioli erano buoni. Erano molto, molto buoni. Sì, non già si chiamano Bown, queste del genere. Perché le ungue colorate. Così mi girava. Mangio e bevi. Sì, ho mangiato sulla salsa di Coca-Cola. Non so se berla oramai. Già finita la viola dentro. Comunque è stato valido come alternativa alla salsa di soia. Si chiamano Bowne si chiamano Bowne si chiamano Bowne si chiamano Bowne. Grazie a Mercedes for follow. Le ho gradite particolarmente. Le hanno molto buone. C'è la confezione purera piccola. Eccoli qua. Eccoli qua. Ve le faccio vedere. Infatti la confezione era piccola. Sei in Giappone? No. Se non li prendevo congelati. Eccoli qui. Però bisognava cucinarli in una faboriera. Perché non asciuga i labbi. In che senso? Sei adesino. In che senso adesino? Che vuol dire adesino? Considera latte di noce. Sarà una buona il latte di noce. Dopo ci trucchi un po'. E mangia. E ho mangiato. Ho specificato una mini live. Allora. Mi è venuto già sonno. Non lo so. Allora. Ma che cosa? In che senso? Sei cattuso? No. Le cucine sono con Gustavo. Sì, sono con il medaglione. Sono lì che mi fissano. Che mangio. Sei quello delle dentiere? Latte di mandorla? Rottino. Ma non è rottino, è un singhiozzino. Mi canti Sara TVB? Eh, però in smr non è semplice. Sara TVB, Sara TVB. Da fili, da fili. Sara TVB, Sara TVB. Da fili. È un rottino creativo. Mi è pure di dire. Ma tu hai TikTok? Eh sì, sono su TikTok. Hola Sandy. Benvenito. Che caldo. Raga. Ci sono 30 gradi. Grazie Angel. For follow. È un po' di Coca-Cola che ho utilizzato come salsa. Molto molto valida. Hola Glory. Hola. Ti adoro, grazie a Sewi. Ciao Peter da Milano. Hola Milano. Benvenito a chi? Ti adoro. Hola Ele. Hola Hillary. Hola Ele. For follow. Non so se curare un po' le pazienti. Hola Gabriele. Gabriele, scusa. Sei la mia vita. Oh mio Dio, grazie. Chi ha mangiato i raviolini? Le curiamo? Dite voi se curarle o meno, perché veramente adesso mangiano sempre materiale brulento, non va mica bene. Tutto questo. Quando? Sì, subito curiamo. Allora, adesso la spengo e poi riaccendo con le ragazze. Ma dove sono finito? Hola Matteo. Benvenito. Bisogna educarle. Le cucine mangiano spesso il materiale. Ma tu hai TikTok? No tesoro, siamo su Facebook, non vedi? Allora, bisogna educarle. Ciao Mary. Chi mangi? Ho mangiato. E questo è il materiale brulento. Assolutamente. Sta proliferando a vista d'occhio. Mangia qualcos'altro. No, non ho più nulla intorno. Grazie per l'info. Hola Alessandra. Mi ero confuso. Allora, grazie Susi. Grazie Alessandra. Adesso vorrei spegnere e riaccendere con le ragazze, magari. Metto pure il ventilatore vicino. Sì, è un simpaticone. Non se lo mangia. Quali le cucine stanno piangendo? Stanno in stato confusionale. Milly non riesce a operare perché non ha imparato le tecniche. Prova qualche gloss. Vediamo se c'è un gloss. Dove ho messo... Ah, sono caduto che è mia tia. Ah, mia tia, no. Ah, questo franzino c'è. Mi dona, mi dona. Allora, trucchi dopo ti sei uto che è sa di fragola, fragolino. Mille in prova, no, assolutamente. Assolutamente.